Tommy Shelby torna al cinema. Dopo sei incredibili stagioni di Peaky Blinders, il regista e creatore della serie, Stephen Knight, ha confermato che a settembre inizieranno le riprese del film. Kylian Murphy tornerà quindi un'ultima volta nei panni di Tommy, mentre ancora non si sa né la data d'uscita nella trama. Un'agenda piena, quella di Kylian, che dopo l'Oscar non si fermerà un attimo. Le voci riguardanti un film conclusivo della serie circolavano ormai da anni, ma ora finalmente ne abbiamo la conferma certa. E voi lo andrete a vedere al cinema? Diteci la vostra e non dimenticatevi di seguirci per altri aggiornamenti. Top Gun è pronto a tornare al cinema. Un terzo film della saga si farà anche se non è certo quando, dato che Tom Cruise è attualmente impegnato nelle riprese di Mission Impossible 8. Ricordiamo come Top Gun Maverick è stato l'incasso più alto nella carriera di Tom. Il film ha infatti guadagnato 1.5 miliardi di dollari. Il produttore Brookheimer ha detto che hanno un'idea per la storia, che a Tom piace ma la stanno ancora sviluppando. Noi non vediamo l'ora di volare di nuovo e voi siete interessati a un terzo film? Non dimenticatevi di seguirci per altri aggiornamenti. Quali sono i 5 migliori film di Dave Bautista? Visto recentemente in Dune parte 2, oggi vi do la mia classifica personale. Come sempre però non dimenticatevi di seguirci e dirci i vostri nei commenti. Allora, sicuramente devo mettere Guardiani della Glaccia, che è stato quello che l'ha fatto esplodere. Ruolo che ha cambiato la vita, Dave l'ha fatto conoscere a tantissimi registi diversi. Chi è che non l'ha mai visto in uno dei film Marvel? Il secondo che metto è sicuramente Blade Runner 2049, dove ottene una parte non molto lunga ma sicuramente significativa. Secondo me la sua performance è stata veramente credibile e in linea generale, a parte il film che è fantastico, Bautista ha saputo rendere suo il personaggio. Non può mancare la sua parte nei film di Dune. Vediamo letteralmente la scalata dell'attore in film sempre più importanti. E questo non a caso perché secondo me è veramente bravo e talentuoso. E soprattutto tengo a sottolineare in parti drammatiche. La quarta pellicola che nomino è Glass Onion. Sicuramente è molto più leggera ma il suo personaggio è stato memorabile. E penso che se non ci fosse stato lui nel film sarebbe stato totalmente diverso. Ed infine mi ha colpito il ruolo da protagonista in Gussano alla Porta. Film sicuramente con torto è molto interessante e che ci fa apprezzare veramente Dave Bautista. Un attore che è partito sicuramente dal basso e ha ricevuto ruoli sempre più importanti. Ditemi voi cosa ne pensate nei commenti e se vi piace.